Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco, ho 47 anni e vivo a Gorizia. Ho conosciuto Fabio Brigida tramite il sito Trend Online e ormai sono 4-5 anni che lo seguo. All'inizio mi ero scritto a un suo corso per conoscere e operare con le candele Aiken Ashi. Visti i risultati e la felicità di aver conosciuto una lista veramente competente, non ci ho pensato nemmeno un secondo quando mi è stata data la possibilità di frequentare il primo corso di analisi grafica e trading operativo che si è svolto da ottobre 2017 a giugno 2018 per un totale di 30 lezioni. Durante la lezione oltre a insegnare e interagire con gli allievi in un clima cordiale, appena terminavo la lezione non vedevo l'ora che arrivasse la settimana seguente per essere lì davanti al PC assieme a Fabio e ai suoi elievi. 9 mesi in cui ho cambiato il mio modo di operare e analizzare i grafici, semplificandomi il lavoro. Inoltre sono contento che abbia mantenuto il contatto con alcuni frequentatori del corso. Concludo dicendovi che in questi anni ho conosciuto parecchi analisti, ho visto i loro webinar, ma alla fine posso affermare che Fabio Brigida è una granzie oltre ad essere una persona sempre disponibile. Inutile dire che vi consiglio caldamente di partecipare al suo corso.